E' una palla di fuoco che arde senza fumo e senza si consumare. C'è la mano di Dio, l'eterno amore. Al Teatro Morelli di Cosenza la commedia in vernacolo a Padda de Foco, Francisco Vulcano de Carità di Mirella Turco Romagno ha concluso le iniziative promosse dal Comune di Cosenza in collaborazione con la provincia in occasione del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola. Il lavoro teatrale è stato interpretato da attori non professionisti molto devoti a San Francesco di Paola che hanno utilizzato il dialetto per rimarcare la calabresità del grande taumaturgo ma anche per sottolineare l'importanza del vernacolo come strumento utile per la riscoperta delle tradizioni. In scena più di 30 attori che hanno ricostruito la vita di San Francesco di Paola a partire dalla nascita. Oima, oipa, voglio di una cosa che ho permesso vostro mi nevole il sacchi a fa pendenza dalla grotta da vicino a Chiumaretta piccarità da tu mi ho permesso senza dubbi il sogno e ritrova Dio che ha preghiera o di uno a mortificazione al Santo Vangelo che ha preghiera